Dentro ci sono milioni di chilometri, ci sono milioni di chilometri, tantissime parole, alcune di queste e alcune prima, ci sono tantissime donne, ci sono delle dèi, ci sono dei fantasmi, c'è anche una morte bambina. Ho un pezzo terribile che è venuto a farci scrivere da solo e io non avrei mai venuto, mi sono detto conto anni dopo di quello che avevo scritto, tra l'altro legato alla morte bambina, c'è anche un aneddoto, una signora in una radio del lago, una radio cattolica, ha avuto in mano il testo e l'ha mandato alla radio vaticana. La radio vaticana ha fatto una confusione leggendo quel brano, la morte bambina, pensando che io fossi morto.